La CNAPI, la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale, è stata predisposta dalla SOGIN sulla base dei criteri elaborati dall'ISPRA, un ente indipendente di controllo, in linea con gli standard dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Si tratta di un set di 15 criteri di esclusione e 13 criteri di approfondimento che forniscono degli elementi di valutazione oggettivi al fine di identificare nel territorio italiano le aree più adatte e con i giusti standard di sicurezza per ospitare un'infrastruttura come il deposito nazionale. Sono criteri legati per esempio ai livelli di sismicità, alla presenza o meno di attività vulcaniche, alle caratteristiche idrogeologiche del terreno, a livello di antropizzazione. Pertanto scelte ed esclusioni non hanno natura politica o economica, ma sono basati esclusivamente su criteri oggettivi di sicurezza.